Inaugurato il progetto presentato dall'Associazione Culturale Ribellezza relativo all'itinerario iconografico di San Francesco di Paola nell'area urbana di Corigliano la Presidente Marica Reale ha inteso dare valenza al centro storico i cui residenti vivono, secondo la rappresentante dell'Associazione in una condizione di abbandono Con un occhio di riguardo alla situazione sociale dei residenti che da tanto tempo ormai vivono in una situazione di abbandono e di degrado quindi diciamo che gli obiettivi che l'Associazione si pone sono complementari quello di riprendere il decoro ma anche quello di riprendere l'entusiasmo di chi ci abita Qui tutto parla di San Francesco, qui si è cresciuto con San Francesco e tra i Coglianesi e San Francesco c'è un amore così forte, viscerale che si nota dappertutto L'obiettivo è quello di rimarcare l'amore per il santo patrono dell'area urbana di Corigliano partendo dai vicori del centro storico in particolare nel rione San Giacomo dove è stata realizzata una mostra permanente Erano il santuario, il romitorio, il ponto canale ciò che San Francesco di Paola aveva desiderato costruire per la nostra città Molte delle icone sono presenti all'interno di strutture private alcune delle quali risalgono a prima della santificazione È un affresco ed è custodito all'interno della cappella privata che è collocata nel palazzo ed è una raffigurazione molto veritiera dell'immagine del santo accanto ad essa e inoltre è custodita anche quell'altra rappresentazione in cui è menzionata la vera effigie di Beato Francesco